benvenuti in questo nuovo video siamo al video numero 8 per quanto riguarda gli esercizi alla risposta al transitorio video 51 della playlist dell'analisi circuitale abbiamo il circuito in figura con due condensatori due resistori un giratore di tensione e un deviatore per t uguale a 0 si devia da 1 a 2 dalla posizione 1 alla posizione 2 determinare tensioni e correnti per t uguale tau c si supponga che nella posizione 1 sia trascorso un tempo t molto maggiore di 5 volte tau c1 e che per t uguale a 0 il condensatore c2 sia scarico quindi come prima cosa dobbiamo determinare le condizioni iniziali che sono stabilite quando il testo dell'esercizio si dice che nella posizione 1 è trascorso un tempo t molto maggiore di 5 volte tau c1 quindi nella configurazione iniziale quindi con il deviatore in posizione 1 questa parte del circuito in rosso è esclusa dal circuito stesso scriviamo che per t minore di 0 la costante di tempo tau c1 è uguale a r1 per c1 cioè 50 ohm per 20 microfarad vale a dire 50 per 20 è 1000 dobbiamo tener conto dei microfarad che sono milionesimi di farad e quindi moltiplichiamo per 10 alla meno 6 questo significa 10 facciamo il usando gli esponenti delle potenze 10 di base 10 questo significa 10 alla meno 3 secondi vale a dire un millisecondo quindi per t è molto maggiore di 5 volte tau c1 significa t molto maggiore scriviamolo di 5 millisecondo di 5 millisecondi in queste condizioni la tensione ai capi del generatore 1 è uguale a quella fornita dal generatore di tensione cioè 10 volt la corrente è nulla ora per t maggiore di 0 cioè quando l'interruttore viene deviato possiamo considerare l'istante 0 più ridisegniamo il circuito quindi coviamo incolliamo eliminiamo la parte di circuito che non è più presente quando il deviatore si porta sulla posizione 2 e vediamo cosa succede allora vc 1 a t uguale 0 più uguale a 10 volte come avevamo stabilito a t 0 meno cioè un istante prima dell'apertura dell'interruttore la corrente che si instaura nella maglia è uguale a v con c1 che v con s fratto r2 e quindi 10 fratto 20 cioè 0,5 ampere ora scriviamo la legge di kirchhoff delle tensioni nell'unica maglia questa è la corrente che circola la chiamiamo i e abbiamo iniziando dal resistore r2 per i più 1 fratto c1 integrale di i dt più 1 fratto c2 integrale di i dt uguale 0 deriviamo l'equazione appena scritta e abbiamo r2 una costante derivata della corrente rispetto al tempo più 1 fratto c1 per i più 1 fratto c2 per i uguale a 0 raccogliamo a fattor comune la corrente nei termini dove è presente la capacità del condensatore quindi r per di i su dt più 1 fratto c1 più 1 fratto c2 che moltiplica i uguale a 0 vi faccio notare che questa è l'inverso della capacità equivalente di due condensatori in serie ora dobbiamo risolvere questa equazione differenziale lo facciamo per separazione di variabili quindi portiamo a secondo membro il secondo termine e dividiamo per r2 quindi dei su dt è uguale a meno 1 fratto r2 che moltiplica facciamo il conto dentro le parentesi minimo comune multiplo c1 c2 e sopra abbiamo una somma tra c1 e c2 per la corrente i ora dividiamo per i e moltiplichiamo per dt e otteniamo dei sui uguale meno c1 più c2 fratto r2 per c1 per c2 per dt e qui individuiamo l'inverso della costante di tempo di questo circuito ora integriamo e otteniamo a primo membro il logaritmo naturale di e al secondo membro l'integrale di dt è t quindi la costante è meno c1 più c2 fratto r2 c1 c2 per t più k ora con i passaggi che conosciamo che conosciamo trasformiamo k in logaritmo naturale di k e portiamo la primo membro otteniamo logaritmo naturale di di meno logaritmo naturale di k uguale a meno c1 più c2 fratto il prodotto di r2 c1 e c1 e c2 per il tempo il logaritmo di meno logaritmo di k è logaritmo di di fratto k e al secondo membro abbiamo ancora meno c1 più c2 fratto r2 c1 c2 per t passiamo agli esponenziali scriviamo più sotto otteniamo e elevato al logaritmo di i fratto k che è il fratto k uguale ad e meno t fratto tau c dove tau c lo scriviamo qui a destra tau c è uguale a r2 c1 c2 fratto c1 più c2 e quindi in definitiva esplicitiamo la dipendenza dal tempo della corrente idt è uguale a k volte e alla meno t fratto tau c ampere ora per t usiamo le condizioni iniziali quindi per t uguale 0 più sappiamo che la corrente è uguale a 0,5 ampere questo ci permette di determinare la costante k perché 0,5 ampere è uguale a k per e alla 0 e alla 0 è 1 e quindi k è uguale a 0,5 ora ci calcoliamo tau c che è uguale a 20 ohm per c1 20 microfarad per c2 30 microfarad per 10 alla meno 12 perché abbiamo i 10 alla meno 6 e 10 alla meno 6 di entrambi i condensatori fratto c1 più c2 e quindi 20 più 30 per 10 alla meno 6 farad e questo ci dà 240 micro secondi e quindi possiamo scrivere la corrente appunto in funzione del tempo appunto in funzione del tempo come 0,5 per e elevato a meno t fratto 240 micro secondi ora qui sul calcolo di tau c sono andato un po' veloce ma 10 alla meno 12 fratto 10 alla meno 6 è 10 alla meno 6 quindi abbiamo i micro secondi e poi 20 per 20 per 20 per 30 e 2 per 2 4 per 3 12 con tre zeri e 12.000 fratto 50 mi dà 240 quindi 240 per 10 alla meno 6 secondi sono 240 micro secondi visto che la corrente è la stessa per tutti gli elementi del circuito infatti sono in serie possiamo calcolare i di tau c e questo è uguale a 0,5 per e alla meno 1 cioè 0,5 fratto e cioè 0,184 ampere o se vogliamo 184 milli ampere ora andiamo a calcolare la tensione ai capi di c2 e questa è pari a 1 fratto c2 per l'integrale della corrente nel tempo cioè 1 fratto c2 per l'integrale e qui voglio usare le lettere e poi dopo sostituiremo i valori numerici perché questo ci aiuta nel calcolo dell'integrale con le semplificazione e quindi abbiamo v con s fratto r2 per e alla meno c1 più c2 fratto r2 per c1 per c2 per t e quindi questo è uguale a v con s fratto r2 c2 ora l'integrale dell'esponenziale è e elevato a meno c1 più c2 fratto e il meno è sempre alla linea di frazione r2 c1 c2 per t per la derivata dell'esponente e la derivata dell'esponente è 1 fratto meno c1 più c2 fratto r2 c1 c2 quindi possiamo scrivere per meno l'inverso cioè r2 c1 c2 fratto c1 più c2 come detto qui semplifichiamo r2 con r2 e c2 con c2 non dimentichiamoci che dobbiamo aggiungere la costante di integrazione quindi riscriviamoci l'espressione di v c2 in funzione del tempo questo è uguale a meno v con s per c1 fratto c1 più c2 per e elevato a meno t e qui possiamo scrivere tau c perché è rimasta la stessa più la costante k per determinare la costante k sappiamo perché il testo del problema ce lo dice che v c con 2 a 0 più è uguale a 0 questo significa che 0 è uguale a meno v con s c1 fratto c1 più c2 per e alla 0 cioè 1 scusate 1 più k e quindi k è uguale a v con s per c1 fratto c1 più c2 sostituendo i valori numerici abbiamo 10 volt per 20 micro farad fratto 20 più 30 micro farad 10 alla meno 6 10 alla meno 6 fa 1 e quindi ci rimane 200 diviso 50 che è 4 quindi 4 volt andiamo a scrivere l'espressione di v c2 in funzione del tempo questa sarà uguale alla costante 4 meno v con s per c1 fratto c1 più c2 l'abbiamo appena calcolata quindi è 4 per e elevato a meno t fratto 240 microsecondi vi faccio notare che avremmo potuto scrivere questa espressione anche con la formula semplificata tenendo conto del fatto che la costante di tempo è uguale alla resistenza equivalente per la capacità equivalente del circuito ora andiamo a sostituire tau c per calcolare la tensione appunto all'istante tau c questo ci da 4 meno 4 per e alla meno 1 cioè 4 meno 4 fratto e vale a dire 2,529 volt andiamo ora ragionare nello stesso modo per quanto riguarda la tensione ai capi di c1 e questa in funzione del tempo è uguale a 1 fratto c1 per l'integrale ora qui la corrente è inversa o la polarità del condensatore meglio è inversa rispetto a quella di c2 quindi dobbiamo calcolare la corrente con un segno meno quindi meno i dt questo ci da meno 1 fratto c1 per l'integrale e questo è lo stesso che abbiamo calcolato prima di vs fratto r per e alla meno c1 più c2 fratto r2 c1 c2 per t integriamo abbiamo scriviamo qui sotto vc1 di t uguale meno v con s fratto c1 per r2 r2 c1 c2 fratto c1 più c2 per l'esponenziale quindi per e alla meno c1 più c2 fratto r2 c1 c2 per t più la costante di integrazione questo è uguale meno per meno abbiamo detto più le semplificazioni ovvie ci da per la tensione su c1 v con s fratto c1 più c2 e qui al numeratore abbiamo anche c2 per e alla meno c1 più c2 fratto r2 per c1 per c2 per t più k ora calcoliamoci preliminarmente vs c2 fratto c1 più c2 questo è uguale a 10 volt per c2 30 microfarad quindi 30 per 10 alla meno 6 fratto c1 più c2 scrivo 50 per 10 alla meno 6 semplificazione abbiamo 10 per 30 che è 300 di su 50 mi da 6 volt quindi prima di sostituire i valori numerici calcoliamoci k sappiamo che a 0 più la tensione a capi del condensatore è 10 volt e quindi vtc1 calcolato a 0 più è uguale a 10 che è uguale a vs c2 fratto c1 più c2 che abbiamo appena calcolato e 6 per e alla 0 più k ora k è uguale a 10 meno 6 perché la 0 è 1 e questo ci dà un k pari a 4 volt quindi v di c1 di t è uguale a 6 più 4 per e elevato a meno t fratto 240 microsecondi ed ora v c1 di tau c è uguale a 6 più 4 per e alla meno 1 cioè 6 più 4 fratto e cioè 6,207 volte andiamo come sempre a verificare i calcoli che abbiamo fatto con ltspice apriamo un nuovo schematico e costruiamo il circuito ecco ho dato i valori ai componenti ho scritto le condizioni iniziali condensatore c1 è carico con 10 volt il condensatore c2 è scarico a 0 volt come transitorio ho preso 1200 microsecondi cioè 5 volte tau andiamo a lanciare la simulazione la corrente vediamo la corrente a 240 microsecondi eccoci qui siamo sempre con le approssimazioni del caso a 184 milliampere e ora la tensione ai capi del primo condensatore la tensione capi del secondo facciamo uno zoom ulteriore per apprezzare meglio i 240 microsecondi su c1 abbiamo 2,5 e rotti volt e su c2 sempre a 240 microsecondi i 6,2 volt circa bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettete anche un like e vi ringrazio condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti mail instagram facebook grazie un saluto a tutti e vi rimando al prossimo video ciao